Adesso vi spiego come fare per utilizzare il tool online EasyEDA Per prima cosa dovete andare su easyeda.com Una volta arrivati in questa schermata cliccate su login Io vi consiglio di fare login e di entrare con il vostro account di google Altrimenti dovete fare la registrazione ed entrare dentro Io a questo punto entro con il mio utente google Una volta entrati, qui c'è l'immagine del mio profilo Dovete selezionare EasyEDA Design E ci porta direttamente nella parte della simulazione La prima cosa importante è quella di cambiare in simulation mode A noi non ci interessa la modalità standard, ci interessa la modalità di simulazione Come fare? O clicchiamo qui in questo bottone celeste Oppure altrimenti va bene anche cliccare qui in alto a sinistra accanto alla scritta EasyEDA Vedete c'è scritto STD, se clicco va via STD e compare SIM Che sta per simulazione Ecco qua, vedete? Qui è cambiato, è diventato SIM E qui ovviamente all'incontrario Ora vi dice che siete su simulation mode E se volete cambiare e tornare su standard mode Allora dovete cliccare il bottone A noi ci va benissimo, ovviamente ho cliccato adesso Ci va benissimo questo Dobbiamo fare un nuovo progetto Per cui o cliccate qui su New Project Oppure File New Project La stessa cosa Va bene? Titolo Diodo Va bene? Guardiamo se me lo prende Forse potrei avere già io qualche altro file Qualche altro progetto con questo nome Infatti dice che esiste E lo chiamerò Diodo2 Voi chiamatelo Diodo Insomma, guardate come preferite chiamarlo Bene, a questo punto dobbiamo andare a prendere i nostri strumenti di lavoro Eccoli qua La libreria nella quale troviamo tutti i componenti Che tipo di circuito andiamo a realizzare? Allora, il circuito è questo qui che vi ho messo su Moodle Non è disegnato proprio in maniera molto elegante Però è chiaro C'è un generatore di tensione alternata Un diodo E una resistenza E noi con l'oscilloscopio andiamo a prendere il segnale Prima del Diodo Per cui subito dopo il generatore E Dopo il Diodo Prima della resistenza Guardiamo Guardiamo che cosa succede Allora Voi magari se avete bisogno vi tenete le due schermate Io vado a memoria Tanto il circuito è abbastanza semplice Ci occorre Abbiamo detto L'oscilloscopio Poi ci occorre Una resistenza Per ruotarla Basta premere R Ora Zoom un attimo Perché se no Stiamo veramente troppo lontani Eccola qua Poi Abbiamo detto Il generatore Eccolo qua Questo è il generatore di tensione Questo è di corrente Allora Questo però è in Corrente In Un generatore Continua In tensione continua Se la vogliamo Alternata Eccolo qua Voltage Si clicca qua giù in questo Questa tendina Lo vedete E qui Andiamo a Selezionare Sin Va bene V Sin Eccolo qua Ora l'ha preso Perfetto A questo punto Che cosa ci manca? Ci manca Il nostro Diodo E lo prendiamo qua E per finire Ve lo anticipo Se no ce lo chiederà Dopo Ci serve Un ground Una terra Una massa Va bene? Per Eh Disegnare Il I fili Che vanno a collegare tutti i componenti Possiamo andare A prendere A premere il bottone Eccolo qua giù In questa tendina Wiring tools Possiamo prendere il filo Infatti vedete Wire Altrimenti Va bene anche Il tasto W Della tastiera E viene fuori Questo Questa specie di mirino E si capisce che Stiamo utilizzando Il filo Si va a collegare Ecco qua Se per qualche ragione Se per qualche ragione Avete bisogno Di cancellare qualcosa Basta Per esempio Metto una resistenza Sbaglio qui Metto una resistenza Per l'errore Seleziono 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 E posso O Cliccare sul cestino Delete Oppure Anche più semplicemente Il tasto Canch Della tastiera Eccolo qua infatti E va via Avete visto che Quando selezionate Un oggetto Vi Anche se lo metto Per esempio Vi rimane Incollato Alla freccetta Vedete Per cui Per deselezionare E perdere appunto La selezione O premete il tasto destro Del mouse Oppure il tasto ESC Sulla tastiera Si può eliminare Anche più oggetti In contemporanea Vedete L'ho selezionati Cancella Stessa cosa Per il filo Ecco Se avete il filo E per errore È partito un filo E non sapete come fare Premette Il tasto ESC Dalla tastiera E si cancella Allora Ho messo il ground Ecco questo ve l'ho già detto Perché serve Perché poi non vi fa fare La simulazione Andiamo a collegare L'oscilloscopio Abbiamo detto Uno lo mettiamo Qui L'altro L'altra sonda Per campionare Il segnale La mettiamo Dopo il diodo Nei canali Vedete A e B Abbiamo un più E un meno Io sono partito sempre dal più Perché è la parte Che ci serve Per andare Ad analizzare Il segnale Nel meno Noi ci mettiamo Un'altra volta Il ground Uno E due E l'abbiamo messo Bene Questo è fatto Ora ci resta soltanto Da salvare Altrimenti Non ci fa procedere Alla simulazione E poi Simulare Per simulare Possiamo Cliccare Questo tastino Questo triangolino Con il cerchio Che sembra quasi Il play Di un lettore Della musica Altrimenti Simulation Vedete qui Run your simulation Che è la stessa cosa Infatti se vi soffermate Qui sopra Vedete che anche qui compare Run your simulation O ancora Più velocemente Tasto F8 Della tastiera Che faccio Come faccio io adesso F8 Ecco qua Questo è quello Che possiamo vedere Vediamo che Il diodo Sta facendo Il Il lavoro Corretto Cioè sta permettendo La tensione Sta facendo passare La tensione Positiva E sta fermando Invece La tensione Negativa Positiva 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 Positiva